Noi l'abbiamo proposto per tante volte e il PD e Renzi stesso l'ha bocciato non ultimo in occasione della riforma costituzionale. Quando la Lega sarà il governo ci impegniamo a far di tutto perché gli italiani tornino a essere italiani e l'Unione Europea che è la negazione dell'Europa sia un ricordo lontano. Ma non li fanno cura il mondo dei mercati, la stellina che cade, la fine dei programmi comunitari? Questo è il colpo di coda dei potenti che hanno scommesso su questa Unione e su questa moneta. Vedrete che l'economia reale, che non è quella della finanza, tornerà tranquillamente a galoppare in Gran Bretagna come correrebbe in Italia se non avessimo i vincoli dell'Europa e una moneta sbagliata.